mi devo togliere gli occhiali regia si meglio se i occhiali siamo già in onda siamo già in onda ok salve cari video generatori e benvenuti dal vostro Danimania Retro Games bene 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 è spuntato il nuovo anno siamo nel 2020 wow siamo nel 2020 ho 36 anni sto invecchiando comunque vado alle cianci e questa è la mia prima puntata e come prima puntata di nuovo anno voglio parlare chiaramente del grande Retro Games e ma prima di svelarvi di che cosa parlerò la sigla si lanciamo la sigla regia avete lanciato un attimo lanciate la sigla errori si regia io sto guardando il copione a quanto pare siamo già in onda siamo in onda siamo in onda Danimania cari videogiocatori abbiate pietà ma la regia sta ancora mangiando il panettone quindi abbiate pietà bene 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 chiudendo questa parentesi ne apriamo un'altra e parliamo di questa nuova puntata oggi vi farò vedere la mia piccolissima collezione di giochi per playstation 2 console che io tengo particolarmente al cuore andiamo subito avanti iniziamo subito con gli amanti di giochi di calcio ne possiedo uno che credo che sia il migliore in assoluto come gioco di calcio per sony playstation 2 gioco della konami pro evolution soccer 2 fateci un pensierino molto bello continuando poi con i giochi sportivi ma un pochettino sul fighting andiamo avanti e parliamo di un gioco di pugilato ovvero fighting night round 3 veramente interessante nulla di particolarmente epico ma carino se dobbiamo parlare della categoria sportiva ma sull'ambito che io amo particolarmente tanto quindi ambito wrestling che già voi avevate capito parliamo di 3 giochi in particolare che ne ho 3 per playstation 2 ovvero il primo in assoluto quello che io amo particolarmente di più di tutti è legend of wrestling 2 ne ho fatto anche una recensione gioco straordinario di wrestling vecchio stile delle leggende dei wrestling che io consiglio assolutamente smackdown 2006 si ho preferito prendere smackdown 2006 perché all'interno include anche le leggende come anche al kogan in tutti e tre aspetti straordinario gioco smackdown just breathe questo gioco io lo amo particolarmente tanto non per la grafica perché il primo gioco di wrestling uscito per sony playstation 2 appunto l'ho riacquistato perché è stato il mio primissimo gioco di wrestling per playstation 2 e quindi ne sono legato in questo tipo di affetto e dato che ormai siamo in argomento parliamo della sezione fighting games iniziamo subito a parlare di uno dei giochi più famosi della capcom ovvero street fighter 2 questa collezione di tutti gli street fighter con tali aggiornamenti all'interno di questo straordinario cd gioco che io consiglio al 100% veramente epico straordinario se continuiamo a parlare di street fighter come non possiamo non nominare il grande street fighter alpha anthology trilogia di tutti gli street fighter alpha racchiusi dentro un solo disco questo gioco è da non perdere assolutamente da sempre rivale della capcom midwide con il suo mortal combat didralize ne ho fatto una recensione gioco sanguinoso di picchiaduro veramente consigliato continuando a parlare della sezione picchiaduro possiamo parlare di un gioco famoso della namco ovvero tech and tag tournament è stato il primo gioco di picchiaduro ad avere la possibilità del tag gioco famoso e consigliatissimo un altro gioco di picchiaduro che non passerà mai di moda gioco della siga virtual fighter 4 questo straordinario gioco di picchiaduro che per me ha un valore affettivo sia anche per il suo gameplay frenetico puro arcade da sala giochi anni 90 veramente consigliato gioco simile a virtual fighter 4 ma della tecmo the outdoor live 2 gioco che io consiglio assolutamente anche per la sua bella modalità storia che trovate all'interno del gioco meraviglioso chiudendo con la sezione picchiaduro passiamo con un gioco di sparatutto a navicelle gioco che ne ho fatto una recensione e se siete amanti del genere ve lo consiglio still dragon ix questo gioco è straordinario vi consiglio di recuperarlo perché è veramente bello ne ho fatto anche una recensione andate a vederla parlando adesso un po' di giochi di cosse come non posso non nominare un gioco famoso è altrettanto bello burnout 2 ne ho fatto una recensione gioco puro arcade andate a vederli la recensione straordinario che io vi consiglio gioco della namco di cosse che io amo particolarmente tanto beh questo un po' meno raid and race 5 ho detto un po' meno per la sua visuale non mi piace com'è impostata la visuale ma il gioco rimane sempre un capolavoro consigliato passiamo agli ultimi tre giochi parliamo innanzitutto di un gioco della siga un gioco famoso anche per il suo nome shinobi shinobi vi dice qualcosa shinobi della siga questo gioco per la playstation 2 è molto amato ne ho fatto una recensione andate a vederla ve lo consiglio con tutto il mio cuore e per chiudere in bellezza non posso fare altro che ringraziare la santa monica studios con questi straordinari capitoli god of war e god of war 2 che poi non è che si sono fermati a questi ci sono anche gli altri ci sono gli spin off per psp ci sono anche quello per playstation 3 e playstation 4 straordinaria collezione god of war io non posso fare altro che parlarne bene e veramente super che consigliato andatelo a recuperare detto questo danimania vi saluta e noi ci rivediamo sicuramente al prossimo video ciao ragazzi